E' da me che le dà un meneo ora E' da me che le dà un meneo Dovita la persona que tiene Y è oggi un defecto moral Por consejo que le dà E' dà un meneo ora lo convencerà e sempre sarà quien è che dirà crimen se están cometendo en esa guerra dirà la persona está muriendo y no quieren dialogar esos barritos gobiernos oh 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 salinera en cuerva son toda la gente campesiana y salinera los marineros valientes y la virgen rociera su fantanco diferente diferente y la virgen rociera y la virgen rociera asia 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 No a quel che ha avuto il dinero, dice che muere temprano, solamente deve pensare che ha vivuto guardando lo che altro va a gastare. No a quel che ha avuto il dinero, dice che non ha sentimento. E' un animal che non ha sentimento. Non lo vamos a cargar, con hermanito dinero il mondo se va a acabar. Questo è l'ultimo, vamos a non fare un po' di pelota a le donne, ma non è che la paura a le donne. ...de ti, yo entré en una confiteria, y acompañado de ti, y con llamas te miraba... ...más guapa me parecía, y los dulces me amargaban...